Juventus, idea Asensio, concorrenza dal Milan. Dopo la scadenza del suo contratto con il PSG, a Di Maria non sono di certo mancate le proposte allettanti. L'argentino ha sposato la causa Juventus, facendo da traino all'arrivo di un Paredes lontano parente di quello ammirato a Parigi. Il doppio addio, dunque, appare l'unica strada percorribile e se per il mediano ci sarà da attendere, la nuova fantasia potrebbe approdare dal Real Madrid. Infatti, secondo TMV, Marco Asensio sarebbe finito sul taccuino dei dirigenti della Juventus che stanno monitorando la sua situazione. Il gioiellino della Spagna andrà in scadenza di contratto e rappresenta un'occasione nel pieno della sua maturità calcistica. A 27 anni, infatti, Asensio ha già vinto tre Champions League, segnando contro la Juventus il 4-1 nell'atto finale di Cardiff. Maglia numero 11 del Real Madrid e maglia numero 10 della Nazionale Spagnola. Non è un parametro assoluto, ma vestire certe casacche in certe squadre non è un caso. Marco Asensio basta vederlo entrare in campo per capire tante cose. Tra i nomi del casting Juve alla ricerca di un esterno di attacco è entrato anche quello del mallorchino di madre olandese, a Madrid da quando aveva 20 anni. Un intreccio che andrebbe a concludersi con l'approdo di Asensio a Torino, come sostituto di Di Maria, una suggestione favorita anche dall'ingaggio, circa 5 milioni, che la Juventus già garantisce ad alcuni suoi calciatori. Ma minata, allo stesso tempo, dall'interesse di diverse squadre, tra cui il Milan che con il Real Madrid dovrà definire anche la situazione Brian Diaz.